I bambini di 30 scuole di Napoli della terza municipalità si sono riuniti al bosco di Capodimonte per una grande manifestazione per la pace. Accompagnati da loro insegnanti hanno sfilato in corteo sventolando bandierini arcobaleno e striscioni per dire no alla guerra. Una richiesta forte dei giovani napoletani con il pensiero rivolto ai loro coetanei sotto assedio in Ucraina e per ricordare i tanti che hanno perso la vita sotto le bombe. Questa mattina le alunne Ania, Daria e Iana di origine ucraina e russa, allievi di un liceo musicale di Napoli, hanno suonato insieme nella chiesa di San Gennaro nel bosco di Capodimonte, un brano per la pace dedicato a tutti i bambini coinvolti in questa terribile guerra, la nina nanna d'ottobre del compositore Arpad. Grazie